A nome della meditazione comunale di Ostiano, di tutta la comunità di Ostiano, un caloroso benvenuto al nostro paese, che ospita per la terza volta, devo dire con sommo piacere, filosofi lungo l'oglio. La dottoressa Nodari mi mette sempre a dura prova, perché io, povero assessore di campagna, che devo sempre affrontare, lei che è un vulcano e comincia a avere forma internazionale, relatori di grandissima fama e quindi io mi trovo sempre un attimo spaesato. Però devo dire che il tema mi aiuta sempre, nobiltà e dignità. Allora, quando mi trovo spaesato, cosa faccio? Penso alla nobiltà dei miei antenati, penso alla nobiltà di questa comunità, penso alla nobiltà di questo paese che mi ha permesso di avere questi luoghi dove posso degnamente rappresentare queste manifestazioni. Penso alla dignità dei miei nonni, delle mie nonne grandi contadini, dell'ose della dignità del lavoro. Quindi mi sollevo e ringrazio la dottoressa Nodari e il professor Vanni per questa serata che sarà senz'altro splendida. Auguro a tutti una bellissima serata e ci porge i suoi migliori auguri che questo festival, lungo l'olio, continui. Chiudo dicendo che è un altro orgoglio, l'Ice Ostiano, siamo l'unica amministrazione provinciale di Cremona che partecipa a questo festival in mezzo a tanta brescianità di cui noi siamo, come spesso abbiamo detto, una costola perduta. Grazie al mio sindaco, alla mia giunta che mi sostiene sempre in queste azzardate di Ostiano, che però vedo funzionano bene e lascio la parola alla dottoressa Nodari. Grazie ancora. Buonasera a tutti. È sempre molto bello tornare ad Ostiano e le parole dell'assessore Merlo mi onorano, non le merito, ma devo dire che abbiamo sempre visto lungo lo stesso orizzonte. ringrazio quindi il dottor Merlo, ringrazio l'amministrazione comunale, il sindaco, tutta la giunta perché Ostiano c'è sempre stato per i filosofi lungo l'olio e mi piace ricordare che quest'inverno Ostiano era anche all'interno del progetto sulla memoria. Quindi è un paese pensante e un paese che ha un cuore che batte con queste nobiltà contadine. Qua tocca da vicino anche la mia pelle perché anch'io, anche noi, filosofi lungo l'olio, lo sapete bene, insomma, veniamo dalla terra, amiamo la terra. Forse l'umiltà, siamo a Ostiano, è un luogo ameno, un luogo, l'ex cimitero napoleonico ci porta a parlare di mistica con il maggiore studioso italiano e non solo di mistica speculativa che è Marco Vannini che l'anno scorso è stato tra noi, è stato molto apprezzato in un comune delle terre basse. Quest'anno abbiamo voluto portarlo in questa provincia altrettanto straordinaria che è Cremona e ci parlerà di nobiltà. Io credo che mai come oggi questo tema della nobiltà, non la nobiltà legata al sague, non la nobiltà di chi è blasonato con tutto il rispetto per chi lo è, ma la nobiltà di essere magnanimo, la nobiltà che non ha di mira tanto grandiosità ma la grandezza d'animo, la nobiltà appunto di cui ci parerà il professor Vannini. Mi avvio velocemente a passare la parola al professore, ha scritto moltissimo, ha tradotto moltissimo con un lavoro più che ventennale l'intera opera sia latina che tedesca come sapete di Meister Eckhart, ha curato più di 30 autori per la collana classica dei mistici per Mondadori, ha scritto molto anche per la casa editrice Morcelliane, i paradossi di Sebastian Frank, ma anche la religione come ragione. Buona serata e passo subito la parola a Marco Vannini, grazie. Ringrazio tutti voi, ringrazio Francesca innanzitutto che ha avuto la gentilezza di invitarmi ancora una volta e ben volentieri ho accettato, perché condivido in pieno quello che ha detto presentando l'iniziativa. Parlerò di nobiltà perché seguo un criterio che è enunciato già da Platone nella Repubblica, che è il seguente, quando si vuole cogliere una cosa, dove la cosa è un concetto, vederla in grande serve a vederla meglio che non in piccolo, si vedono meglio le cose grandi che non le piccole. Allora dovendo parlare di dignità che è il tema di quest'anno della rassegna Filosofia e Longologlio, ho spinto il concetto al limite massimo, appunto nobiltà, nobiltà come estremo, superiore di dignità, in modo che nel grande si possa vedere meglio anche il concetto stesso. Nobiltà, dice Aristotele, è uomo nobile chi è degno, ecco qui il concetto, di cose grandi. Difatti, appunto come anticipava Francesca, la nobiltà non è affatto, neanche in questa riflessione del primo grande filosofo, o del secondo se volete, antico, non è affatto legata al sangue, alla razza, a cose di questo genere, non si sta parlando di questo, si sta parlando di nobiltà in un senso tutto morale, spirituale, nobile è chi è degno di grandi cose, non c'entrano i parenti, non c'entra la nascita, non c'entrano cose di questo genere. Purtroppo nobiltà è per noi una parola abbastanza inconsueta, non la si usa quasi più, non la si usa quasi più, ossia perché non esiste o direi è abbastanza una cosa da operetta, la nobiltà di sangue che non c'è e se c'è è meglio, sarebbe meglio che non ci fosse, ma perché il nostro mondo è pervaso dal mito dell'uguaglianza, il che va anche bene se però l'uguaglianza non la si intende come purtroppo invece succede come un'uguaglianza verso il basso, l'uguaglianza non verso la dignità, verso la nobiltà, ma l'uguaglianza nel senso peggiore. Quindi per un certo nostro mondo la stessa parola aristocrazia è una parola riprovebole, quasi fosse un peccato, quasi fosse un male vantare, il vantare e l'essere in un certo modo non uguali. Una cosa questa curiosa perché in realtà nella nostra società democratica l'uomo democratico, anche questo descritto magistralmente nella Repubblica di Platone, in realtà è un uomo che vive il mito del successo a ogni costo, il suo egalitarismo è tutto formale, perché poi in realtà la tendenza sfrenata è quella del primeggiare, è quella dell'essere superiori, ahimè purtroppo non dell'essere superiori in senso morale, ma in un senso che quasi sempre è soltanto economico. Allora invece Aristotele, da cui parto, descrive l'uomo nobile come l'uomo dall'animo grande, magnanimo, magnanimo e dà una sorta di descrizione proprio tipologica dell'uomo nobile, che io rapidamente vi sintetizzo. L'uomo nobile, spiega Aristotele, è colui che niente stima grande ed ha come fine principale l'onore. Perciò, dice Aristotele, l'uomo nobile non sarà mai ingiusto, perché dovrebbe infatti commettere un'azione turbe, lui per il quale nulla è grande? La nobiltà sembra, ha detta di Aristotele, un ornamento delle virtù. L'uomo nobile è colui che pregia soprattutto l'onore, però anche l'onore per l'uomo nobile è cosa di poco conto, perché l'uomo nobile è distaccato da tutto, stato attenti a questo concetto, tanto da passare per uomo sdegnoso. Non è incline a serbare rancore, infatti non è proprio dell'animo nobile conservare risentimento nella memoria, soprattutto dei mali, ma passarvi a lato. Non parla degli uomini, né di se stesso né di altri. Sono costretto a leggere con una certa velocità, ma sarebbe significativo soffermarsi su ciascuno di questi punti, anche per fare un parallelismo col nostro mondo, dove è tutto un riferire a se stesso, tutto un parlare di se stesso, l'io etc. Invece l'uomo nobile non parla né di se stesso né di altri, infatti non gli sta a cuore di essere lodato né di sprezzare gli altri. È altezzoso verso i potenti e coloro che godono i favori della sorte, ma misurato verso gli altri, perché è glorioso essere superiore ai forti, mentre è ignobile mostrarsi forte contro i deboli. Non è incline a lamentarsi o a chiedere, perché non vuole aver bisogno di nessuno, ma viene invece in aiuto con slancio. È capace di fare del bene, ma si vergogna di ricevere benefici e vuole contraccambiare più benefici di quanto riceve. Di questa trattazione che ho sintetizzato aristotelica dell'uomo nobile, voglio sottolineare alcuni fatti. L'uomo nobile non cerca il pericolo, specie dove non ne vale la pena, dal momento che ha in onore poche cose, ma affronta grandi pericoli e quando li affronta non tiene conto della vita, nella convinzione che essa non è cosa degna di vivere a ogni costo. Questo punto, la subordinazione della vita al valore, all'onore e non il contrario, è il tratto probabilmente più evidente dell'anima grande. Qui la descrizione che fa Aristotele dell'uomo nobile ricalca, ricorda da vicino il modo con cui Platone, suo maestro, delinea la figura del filosofo. Noi parliamo per difendere la categoria. Niente lo mostra però come gli esempi classici, a me piace ricordarne uno molto noto peraltro, che è il racconto che lo storico erodoto fa della battaglia delle Termopili, quando racconta che il re spartano Leonida, quando seppe che erano stati accerchiati e dall'indovino, seppe che il giorno dopo le parche sarebbero stati su di loro, sarebbero tutti morti, cosa fece? Congedò, mandò via i soldati delle altre città, gli alleati e restò lì da solo con i soli spartani, con solo i suoi. E Erodoto, lo storico si domanda come mai il re spartano abbia agito così, cioè abbia salvato, mandato via, salvando ovviamente il resto dell'esercito e abbia scelto solo per sé e per i suoi la morte. E risponde in più modi, dice che innanzitutto perché lui da Sparta aveva avuto l'ordine di stare alle Termopili e gli spartani obbediscono agli ordini e basta, ritengono disonorevole a disobbedire. Poi l'oracolo di Delphi aveva predetto che o Sparta sarebbe stata distrutta o sarebbe morto uno dei suoi re della stirpe di Eracle e Leonida era re della stirpe di Eracle e quindi scelse di morire lui e salvare la patria. Ma, e questa è la cosa straordinaria che dà proprio la misura di un altro mondo, dice Erodoto, io penso però che oltre a tutto questo è senz'altro vero in realtà Leonida, ben sapendo quale Cleos, quale Gloria sarebbe venuta dalla morte alle Termopili dei soli spartani, non volle dividere con gli alleati questa gloria, la volle solo per sé e per i suoi, assicurando a sé e agli spartani soltanto questo onore eterno. Bene, ma c'è un punto forse più importante per un discorso diciamo così di filosofia, dell'uomo nobile caratteristica ancora più essenziale è la sincerità, l'essere veridico, veritiero, scrive Aristotele e dice per lui è necessità essere manifesto nei suoi odi e nelle sue amicizie, giacché il nascondersi è proprio di chi ha paura e perciò egli parla e agisce apertamente, abituato a dire la verità e a disprezzare, a meno di non dissimulare ironicamente la sua superiorità e di fatti fa spesso uso dell'ironia. Già, questa cosa della sincerità, dell'essere veridico, veritiero, un grande studioso del mondo antico, del mondo classico, era poi anche un grande filosofo e che citerò più volte anche stasera, cioè Nietzsche, dice che i nobili nell'antica Grecia definivano se stessi i sinceri, noi uomini sinceri e questo si capisce abbastanza facilmente, perché in realtà per il potere è necessaria a tutti i livelli la finzione, il fingere, se non esplicitamente il mentire è necessario, considerato tale a tutti i livelli, da quello se volete più banale del piccolo commercio a quello meno banale, ma in realtà altrettanto della politica. E se invece, come stiamo dicendo, l'uomo nobile è distaccato dal proprio utile, è distaccato e guarda soltanto alla cosa grande, compresa la vita, è evidente che per lui la menzogna è spregevole e l'essere veritiero, veridico, una cosa quasi connaturale. Bene, fin qui Aristotele, da me riassunto, ma insomma fin qui Aristotele, questa immagine dell'uomo nobile non finisce, non finisce, passa direi quasi del tutto invariata nella grande tradizione post dopo Aristotele, post aristotelica, soprattutto nello stoicismo presso gli stoici, i quali si esprimono in un modo che non è lo stesso, ma lo possiamo considerare quasi lo stesso. Lo stoicismo è molto importante perché è la corrente di pensiero che sotto questo profilo morale è quella che ha più influenzato anche il mondo cristiano, soprattutto ai suoi inizi. Gli studiosi sanno che la morale cristiana, ripeto, soprattutto quella degli inizi e quella che è andata avanti per lunghi secoli, forse ora un po' meno, in realtà la morale cristiana è la morale stoica con leggere variazioni, uno dei grandi fondatori della morale cristiana è il Vescovo Lombardo Ambrosio, il quale scrive un'opera fondamentale che si chiama De Officis Ministrorum, cioè i doveri dei ministri della Chiesa, seguendo pari passo anche nel titolo il De Officis, i doveri di Cicerone e Cicerone a sua volta aveva fatto un compendio di opere stoiche. Chi ricorda un po' la Divina Commedia si ricorda l'alta stima che Dante ha per Seneca, Seneca morale, di cui i medievali avevano creato anche un carteggio epistolare con San Paolo, avevano messo in relazione il filosofo stoico Seneca con San Paolo. In effetti quest'etica antica, l'etica aristotelica, ripeto, filtrata nell'arco dei secoli è passata in larga misura nel mondo cristiano, anche negli scolastici. Tommaso d'Aquino a San Tommaso quando tratta di etica sostanzialmente segue, non sempre, ma segue e commenta approvando quasi senza riserve l'etica di Aristotele. Ma ancora di più noi dobbiamo sapere che la filosofia antica, secondo la giusta osservazione di un grande studioso che è morto da poco, Pierre Hadot, la filosofia antica ha avuto il pieno del suo proseguimento, la sua vera prosecutrice proprio nella mistica del mondo cristiano. I grandi mistici cristiani sono gli eredi in toto, o perlomeno la maggior parte, della filosofia antica e questo lo vediamo molto bene proprio nel discorso sul tema di cui stasera ci occupiamo. Scelgo due riferimenti soltanto per brevità, prima del maestro mio prediletto, maester Eckhart vorrei citare una donna che a sua volta invece è stata sua maestra, cioè Margherita Porete, una mistica probabilmente fiamminga che ahimè venne bruciata come eretica, errore clamoroso, provane sia che il suo libro ora è pubblicato nel Corpus Christianorum. Margherita Porete costruisce il suo discorso proprio sul termine nobiltà e sull'anima nobile. L'anima nobile, qual è l'anima nobile? E' quella che pratica il nobile amore, l'insistenza su questo termine di nobiltà. Il nobile amore cos'è? E' l'amore distaccato, l'amore che non cerca il proprio utile, non cerca il possesso, non cerca l'appropriazione, ma al contrario è devuement, dedizione, distacco, indifferenza verso la propria sorte, la quale viene assolutamente dimenticata. Tanto è distaccato questo nobile amore dell'anima nobile da obliare anche se stesso, non sa neanche di dire di se stesso, spinge la propria lieta indifferenza addirittura verso se stesso. Qui il nobile amore è il testimone più forte per la mistica Margherita della connaturalità che l'anima ha con Dio, il quale è egli stesso amore. E qui lei non lo sapeva, ma noi lo sappiamo, sta riprendendo alla lettera la terminologia platonica, la siungheneia, la connaturalità che l'anima umana, l'anima nobile ha con Dio. Il nobile amore a volte lo chiama fin amore, nel suo francese del 300, amore femminile. Questo fine amore, questo nobile amore dell'anima distaccata la fa certa della sua connaturalità con Dio stesso. Questo concetto è un concetto appunto di origine platonica, neoplatonica e come tutti sanno, ma io di questo non mi voglio occupare, ne avevo avuto un po' la tentazione, in quanto fiorentino potevo acchiappare i grandi temi dell'umanesimo, il De hominis dignitate, De nozzomanetti, figo della mirandola, ma innanzitutto pensavo e altri forse, no? Non lo so, finora no, ma poi non mi ho voluto evitare. È un concetto come sapete nell'umanesimo, nel rinascimento è molto circolato, quello della grande dignità dell'uomo, che dignità che sta nell'essere vicino e partecipe alla natura stessa di Dio. Ma invece rimango nel Medioevo e vengo a un uomo che però proprio da questa donna fu potentemente ispirato che è Maestro Eckhart e qui sono fortunato, ma in realtà lo sapevo prima quando ho scelto l'argomento, perché Maestro Eckhart ha attribuito un trattato o sermone che si chiama proprio così l'uomo nobile, dell'uomo nobile, su cui mi soffermerò un poco. Qual è l'uomo nobile? Ancora una volta ovviamente non si sta parlando di nobiltà di sangue, non si sta parlando di razza, ma il buon Domenicano Maestro Eckhart sta predicando e sta spiegando un versetto evangelico, il versetto di Luca, omo quidam nobilis, un uomo nobile partì per un paese lontano per ottenere un regno e poi tornare e si domanda chi è quest'uomo nobile, chi è l'uomo nobile del Vangelo che va per prendere il regno, per ottenere parte per un paese lontano, per ottenere un regno. E dice così, sono poche righe e su queste mi ci soffermeremo, bisogna sapere che l'uomo ha in sé due nature, il corpo e lo spirito, perciò un testo dice chi conosce se stesso conosce tutte le creature, perché tutte le creature sono corpo, lo spirito. A proposito dell'uomo la scrittura dice che v'è in noi un uomo esteriore e un altro, l'uomo interiore. All'uomo esteriore appartiene tutto ciò che inerisce all'anima, ma è avvolto dalla carne e commisto ad essa. Tutto ciò che svolge un'opera fisica comune con e entro ciascuna delle nostre membra, come occhio, orecchio, lingua, mano o altro. Tutto ciò la scrittura, la scrittura ho l'S maiuscola, cioè la Bibbia, lo chiama uomo vecchio, è quasi sempre San Paolo comunque, uomo vecchio, uomo terrestre, uomo esteriore, uomo ostile, l'inimicus uomo che semina zizzania, uomo serbo, ma in noi c'è un altro uomo che è l'uomo interiore e la scrittura lo chiama uomo nuovo, uomo celeste, uomo giovane, amico, uomo nobile. E' a questo che pensa Nostro Signore quando dice un uomo nobile partì per un paese lontano per ottenere un regno e poi tornò. Ecco, questo è il breve inizio dell'uomo nobile di Maester Eckhart. Io sono partito da Aristotele e poi dal mondo greco in generale e non a caso, perché questa distinzione uomo interiore, uomo esteriore, ripresa da Eckhart, ma in realtà sostanzialmente dell'Apostolo Paolo, Paolina, in realtà è platonica, è esplicitamente nella Repubblica di Platone, uomo esteriore, uomo interiore. E ancora una volta alla sua fonte greca l'Apostolo Paolo ricorre per la distinzione che in lui è proprio contrapposizione tra da un lato corpo, sarx e psuche, anima, da un lato e spirito dall'altra. La dimensione dell'uomo interiore, l'uomo interiore, l'uomo interiore in cohabitat veritas di Sant'Agostino è infatti non la dimensione della corporeità, dei sensi, occhio, orecchio, lingua, mano o altro e neppure quella del tutto accidentale dello psicologico. È invece la dimensione che Meister Eckhart, riprendendo anche qui un termine e soprattutto un concetto che gli viene dal mondo greco, chiama del fondo dell'anima, non dell'anima ma del suo fondo. Un fondo dell'anima che è privo di ogni determinazione perché vuoto di ogni volere. È la realtà dell'uomo veramente povero. Qui direi paradossalmente sotto un certo aspetto l'estrema nobiltà si fa risiedere nell'estrema povertà che anche in questo caso però non è una povertà puramente materiale nel senso di assenza di denaro, ma è una dimensione spirituale, è la dimensione dell'uomo che, tra virgolette, nulla vuole, nulla ha, nulla sa. E la nobiltà è tale davvero, secondo questi autori, perché il fondo dell'anima si può dire anche in altri modi, per esempio il grande mistico cinquecentesco Giovanni della Croce, San Giovanni della Croce preferiva dire il centro dell'anima, ma è assolutamente la stessa cosa, il fondo dell'anima o il centro dell'anima è in realtà, secondo loro, Dio stesso, né più né meno. La connaturalità cui accennavamo prima tra l'anima nobile che è quella che nobilmente ama e colui che è l'amore stesso, si verifica qui nel suo livello anche sostanziale, ontologico più forte. Il Dio che è il fondo dell'anima non è un'immagine, non è un eidolon, eidolo vuole dire immagine, ma è puro spirito, spirito che si comunica spirito. Di questo ovviamente proprio nella realtà dell'amore ce ne rendiamo conto, mi viene in mente quando Agostino nelle confessioni ricorda i suoi amori giovanili, quando da giovane, ragazzo, poco più, amava le ragazze e desiderava ovviamente le belle ragazze, ma si rende conto più avanti che in realtà non era, la ragazza, la fanciulla che è amata, non era l'oggetto vero dell'amore, era come dire l'occasione e se ne esce le confessioni con un'espressione in italiano, ahimè è intraducibile perché amare amabam, amare amabam dice nel suo latino, in realtà era l'amore e lui stava amando, amava amando, amava amare e questo l'ha capito più avanti, che non era la concupiscenza e il desiderio della bella ragazza, in realtà era già in atto, stava nascendo appunto l'amore con la maiuscola. Bene, allora l'uomo interiore, questo uomo interiore che è l'uomo nobile, faccio un piccolo passo, anche perché è il tempo, l'uomo interiore in quanto appunto privo di determinazioni, perché vivo in quel fondo dell'anima dove non c'è desiderio, non c'è volontà, non c'è un presunto sapere, è anche l'uomo in universale, non è questo uomo qui, ma l'universale umanità ed è quella che è nobile. Universale, prosegue Maester Eckhart, è ciò che è comune, ciò che è di tutti, mentre ciò che è proprio privato è non nobile e l'opposto di non nobile è ignobile, sordido. Ciò che è proprio e privato, scrive il Maestro Domenicano, è ignobile, nobile è ciò che è universale, comune. E si capisce allora qui come mai alla nobiltà, come si diceva già per Aristotele, inerisca in un certo modo, come dirlo, un certo disprezzo, che non è il disprezzo per gli altri, questo va evitato assolutamente, ma è il disprezzo verso tutto ciò che in noi stessi vuole permanere, vuole appropriarsi, vuole afferrare. L'uomo nobile siccome cerca, si muove verso l'infinito, ha rifugnanza verso tutto ciò che è finito. E anche qui viene in mente il filosofo che vi citavo prima, cioè Nietzsche, il quale scrive appunto che nel suo Così Paello Zarathustra, tutto ciò che è giunto a perfezione vuole finire, tutto ciò che invece non è maturo vuole permanere, vuole vivere. La lieta, lieta e attenzione, la lieta, il lieto disinteresse verso la propria sorte, questo lieto condurre verso la fine è il segno della megalopsia, della magnanimità della grandezza. Questa è la logica appunto dell'amore distacco del convito platonico, dove non a caso è attraverso il distacco che si va dall'amore iniziale, come vi dicevo prima, è sempre desiderio privato, desiderio di appropriazione, verso l'universale sempre più alto che si connota sempre di più con le caratteristiche dell'assoluto di Dio. Un ultimo passo, vi chiedo ancora, un ultimo punto abbastanza essenziale. Riprendo l'affermazione ancora una volta di Aristotele che facevamo all'inizio, dell'affermazione, quella del veritiero, l'uomo nobile che è veritiero. È veritiero non solo per un suo senso di indipendenza dagli altri, anche di superiorità, per cui non mi curo dell'opinione altrui e posso dire la verità, ma ancora di più perché è libero dall'opinione, libero dalla propria opinione. La menzogna finisce, la menzogna non è soprattutto quella che si fa verso gli altri, ma quella che si fa verso se stessi. Il mentire è sì anche verso gli altri, però la menzogna veramente pericolosa è quella che noi facciamo a noi stessi e questa ahimè è molto difficile da estirpare. Finisce, termina soltanto quando termina l'opinione, quando termina la convinzione. Che altro non è se non il legame al proprio interesse? Nietzsche qui è veramente maestro molto raffinato, scrive ad esempio che chi pensa davvero profondamente sa di avere sempre torto qualsiasi cosa pensi e perciò si deve diventare, si deve arrivare ad essere liberi dall'opinione, liberi di formarci o non formarci opinioni sulle cose, risparmiando in questo modo l'inquietudine alla nostra anima. L'uomo veramente libero non vuole niente, non si preoccupa di niente, è una morte a occhi aperti, questo termine antichissimo della storia della mistica, del distacco e preparato alla morte. E allora in questo modo la libertà è strettamente legata alla veridicità, si è veritieri perché liberi dall'opinione e questo, ripeto, non nei confronti degli altri, ma soprattutto nei confronti di se stessi. L'intelletto, scrive ancora Nietzsche, è un maestro di finzione, svolge perciò un servizio da schiavo, quella che noi chiamiamo verità bisogna stare attenti perché molto spesso è una illusione che noi facciamo a noi stessi e ciò vale a maggior ragione anche proprio per i filosofi e per le filosofie. Ogni filosofia è una filosofia dell'apparenza, c'è qualcosa di arbitriario nel fatto che il filosofo si sia fermato qui, abbia guardato indietro, si sia guardato attorno e non abbia scavato più a fondo, abbia messo da parte la vanga, come mai non si è fermato prima e come mai non ha scavato ancora di più? Perché c'era ancora terra da scavare, c'è sempre ancora terra da scavare. E Nietzsche che sto leggendo, leggendo o comunque citando liberamente, conclude c'è qualcosa di molto sospetto in tutto ciò. Cioè in realtà anche nel filosofo molto spesso quella che è in atto è come dire la volontà della propria fama, il desiderio di successo, tutte queste cose che lui non confesserà mai, ma ciascuno di noi se le può riconoscere in se stesso. E almeno in questo possiamo non mentire. E' vero che la menzogna più frequente, scrive ancora Nietzsche, è quella che ciascuno fa a se stesso. Mentire agli altri è un caso relativamente eccezionale. Ho citato volentieri Nietzsche, che amo molto peraltro, e che non è un filosofo sospetto di simpatie religiose, quantomeno clericali etc., perché su certi punti, e uno è questo, credo con tutto il rispetto per lui, che non lo sapesse neanche lui, però lui qui si trova in assoluta sintonia, su questo punto per esempio, della menzogna legata all'amor sui, si trova in assoluta sintonia con la tradizione più antica e anche con quella tradizione cristiana e non amava per nulla, anzi con quel filosofo cristiano verso il quale spesso ha parole di assoluto disprezzo, cioè il Sant'Agostino non mai troppo lodato, come diceva Lutero. Già, perché su questo punto, cioè della menzogna, capite? E' quella che impedisce la nobiltà. Il mentire, il non essere veritieri e il non essere veritieri con se stessi, prima di tutto, è ciò che rende piccini, ciò che fa l'anima piccola, mentre stiamo cercando di dire attraverso questi autori che l'uomo nobile ha l'anima grande. Qui Nietzsche ci sta dicendo che la menzogna verso noi stessi è la cosa più frequente e ora dice, non vorrei che qualcuno si offendesse, però è bellino, anzi può servire, dice che il non voler vedere le cose che si vedono, insomma il fare finta, è la condizione essenziale di tutti quelli che appartengono in qualsiasi senso a questo o quel partito. L'uomo di partito è necessariamente un impostore, attenzione, è una traduzione, per partito non si deve intendere solo partito politico, certo anche quello, ma vuol dire ogni parte e di fatti lui lo spiega, tutto ciò che costituisce gruppo, sia esso chiesa, setta, partito politico o altro, dove c'è il partito si può essere sicuri che lì c'è un impostore e perciò prosegue il filosofare moderno, questo è bello, il filosofare moderno non ha nulla della libertà degli antichi, ha sempre un colorito politico o addirittura poliziesco, alla conquista dell'apparenza erudita. Ma dicevo prima e questo mi interessa di più per cercare di avviarmi verso la fine, che qui probabilmente senza saperlo, Nietzsche sta dicendo una cosa che era uno dei cavalli di battaglia del cristianesimo degli inizi, nella sua contrapposizione natura grazia, cristianesimo degli inizi, sottolineo degli inizi e la sua contrapposizione natura grazia, uno dei cavalli di battaglia era appunto questo, recita il canone 22 del concilio di Orange del 529, di suo l'uomo ha solo la menzogna, questo è ciò che gli appartiene in quanto suo, perché in quanto suo? In quanto ciò che è appropriativo, che è privato, che è proprio, perché come ho detto prima, l'universale, ciò che è comune, esso è il nobile, esso è il veritiero e ovviamente qui il concilio parla così, il concilio parla questo linguaggio agostiniano, perché vuole contrapporre all'uomo nella sua naturalità, diciamo pure psichica animale, l'uomo rinnovato dalla grazia, allora lì il mio non è più mio e non uso più neanche questi termini appropriativi, il mio, il mio etc. Il Salmo 115 è molto amato da tutta la storia della mistica, il Salmo 115 è quello che dice omnis homo mendax, ogni uomo è mentitore, è mentitore appunto soprattutto per questo non riconoscere la sua radicale smania d'appropriazione, vi risparmio la lista di citazioni che pure avevo preparato, nelle creature non c'è verità, scrive Teresa Davila nel castello interiore, molto bello, molto bello, Dio solo è verità e dice bene Davide nel Salmo, todo hombre es mentiroso, chi pensa il contrario sta mentendo, dice Teresa Davila, non riconosce la sua menzogna e così via dicendo, da Sebastian, sono tutti i miei amici questi, gli uomini con cui mi sono trovato in buona compagnia, noi nasciamo e viviamo nella menzogna, non ci sono date che menzogne, noi stessi perfino, crediamo di vedere noi stessi e non vediamo che l'ombra di noi stessi, conosci te stesso è un precetto impraticabile nella caverna, scrive Simone Weil alludendo al mito platonico della caverna dove l'uomo è prigioniero e vede solo ombre e non realtà, proprio come i prigionieri nella caverna platonica noi giochiamo con il mentale che è il mentire. Bene, e allora qui c'è un ultimo punto, la necessità per la verità, per essere veritieri di liberarsi e addirittura spesso della pretesa della verità. Commentando ancora una volta un versetto di San Paolo, Nunc scio vero liberati di Romani 6.22, Maester Eckhart dice dobbiamo liberarci anche della verità, perché la verità in questo caso ovviamente non è la verità con la V maiuscola, ma è la nostra pretesa appropriativa del vero, è la nostra pretesa appropriativa della verità e qui allora si capisce la sua invocazione prego Dio e mi liberi da Dio, che si citava anche poc'anzi, perché è evidente che si tratta di liberarci da un Dio preteso della nostra conoscenza, ma in realtà a frutto di immaginazione, a beneficio di quel Dio che in ultima analisi noi non conosciamo e quindi dobbiamo approdare a questo nulla sapere dell'uomo povero, che è l'uomo nobile, questo nulla sapere, questa beata agnosia, questa beata ignoranza, che non è beota ignoranza, è l'ignoranza di chi si è liberato dalle pretese verità e in questo modo ha conquistato, conquista appunto anche come si diceva l'anno scorso, beatitudine. E concludo anche qui riprendendo ciò che già all'inizio ci raccontava Aristotele, il legame tra nobiltà e giustizia. L'uomo nobile, abbiamo detto all'inizio, pregia solo la giustizia, anzi solo lui è giusto, è giusto perché è libero, è libero perché è distaccato, il distacco è ciò che ci permette di essere uguali in tutte le cose e qui l'uguaglianza non è l'uguaglianza di diritti, l'uguaglianza economica etc., che poi si rivela sempre abbastanza illusoria, è il nostro essere uguali, di uguale animo di fronte a tutte le cose. Che la giustizia abbia a che fare con uguaglianza ce lo dice anche l'immagine della bilancia, c'è perfino nelle marche da bollo, la giustizia è la bilancia, è l'immagine di equalitas, di equità, eguaglianza, equità, guai al giudice che non fosse equo, ma può essere equo, è quello che stanno dicendo questi maestri a cui mi riferisco, solo in quanto è distaccato e libero dall'opinione, ma io sottoscrivo in pieno, non vorrei mai andare di fronte a un giudice che ha una opinione, non solo se ha la diversa dalla mia, ma questo peggio che mai, ma perché deve essere assolutamente libero, libero vuole dire vuoto, guardate che sono parenti in tutte le lingue, vuoto, puro, libero, solo così può essere equalis, uguale e solo così equo, ma non si tratta poi solo del giudice che sta in tribunale con la toga, si tratta di tutti noi, la equalitas, l'eguaglianza ci è richiesta direi in ogni istante della vita, non è solo l'atto, tutte le volte che io giudico, ho fatto per molti anni l'insegnante, il professore, giudicavo, mettevo i voti, ma non è solo quello, non è soltanto quello, in ogni istante, in ogni rapporto della nostra vita ci deve essere equalitas. L'uomo divino, l'uomo dei forme è quello uguale, uniforme, uniforme, conforme all'uno e questo appunto è l'uomo nobile, l'uomo nobile, l'uomo nobile, uomo divinus, Eckhart lo chiama anche così, è distaccato, assolutamente distaccato, non cerca niente con le sue opere e di fatti non è il servo che anche nei testi Paolini indica l'uomo vecchio, l'uomo ignobile, chi agisce per un perché è un servo, è un mercenario, non è uomo libero, non è uomo nobile. Nel sermone i giusti vivranno in eterno, il Maester Eckhart parte dalla definizione del diritto romano, dal codice giustinianeo, giusto è chi dà a ciascuno ciò che gli spetta, uniqui quesum, no, a ciascuno il suo. Concludo, l'uomo giusto che è l'uomo nobile, perché è l'uomo completamente distaccato, io ve l'ho enunciata spesso utilizzando il sermone o il testo di Maester Eckhart, ma in realtà anche essa è un'immagine che ci viene dal mondo antico, che ci viene dal mondo classico e vi citerò un episodio molto noto, ma secondo me è il più bello, è quello che racconta lo storico, il filosofo stoico Plutarco, guarda caso, narrando la vita di Aristide Ateniese. Aristide Ateniese è una storia probabilmente vera, era uno dei capi di Atene, uno dei vincitori della battaglia di Maratona, quindi dei salvatori della patria di Atene e della Grecia stessa, ma venne in odio della plebe per la sua giustizia, vecchia storia anche questa e allora venne ostracizzato, come tutti voi sapete bastava scrivere su un coccio il nome della persona, se i cocci raggiungevano un certo numero, coccio si dice ostracon, da qui la parola ostracismo, la persona se ne doveva andare in esilio e Aristide subì questo trattamento. Plutarco racconta il seguente episodio, forse è noto a tutti, ma lo ripeto sempre volentieri, un tizio il quale non sapeva scrivere ed era un perfetto cialtrone, consegnò il coccio ad Aristide credendo che fosse il primo venuto e gli chiese per piacere di scrivere il nome di Aristide, senza sapere era lui. Questi stupito domandò all'uomo se Aristide gli avesse fatto qualche torto, nessuno rispose l'altro, io non lo conosco nemmeno, ma sono stufo di sentire ripetere dappertutto che è un uomo giusto. Aristide ascoltò e non replicò niente, scrisse sul coscio il proprio nome e lo restituì. Quando lasciò la città, perché fu ostracizzato, pronunciò con le mani tese al cielo l'invocazione opposta a quella di Achille, perché Achille nell'Iliade quando subisce da Agamennone la sopraffazione etc., prega la madre che è una Dea che ottenga da Zeus, che è un Dio di prima categoria, però che i greci abbiano bisogno di lui, l'ira di Achille, difatti i greci avranno bisogno di lui. Invece Plutarco dice che Aristide con le mani tese al cielo pronunciò l'invocazione opposta a quella di Achille, cioè che gli Ateniesi non dovessero mai trovarsi in alcun frangente che li costringesse a ricordarsi di Aristide. Ma gli Ateniesi si ricordarono di Aristide perché i persiani tornarono e di fronte alla rinnovata invasione persiana Aristide tornò in patria, dimenticò le offese e guidò l'esercito a Platea dove i greci sconfissero i barbari. Il resto non mi interessa, ma Plutarco che ho letto conclude dicendo che Aristide ovviamente morì povero, era un aristocratico, anche di sangue, ma in quanto giusto morì povero, in quanto nobile e in quanto giusto morì povero. Dicono che la sua tomba fu costruita a spese dello Stato perché Aristide non lasciò neppure i soldi per il funerale, anche le sue figlie furono sposate con il denaro pubblico a cura del Britaneo, fu la città che dette loro la dote. E questo destino dell'uomo giusto, uomo nobile non deve meravigliare, è abbastanza noto, anche Platone descrive la sorte del giusto nella Repubblica come per forza tragica, in un mondo che è iniquo l'uomo nobile, l'uomo giusto finirà male, finirà dice Platone nella Repubblica, usa il verbo staurofenai che si può tradurre anche con crocifisso e questo è un esempio a tutti noto e io concludo rilevando la coincidenza profonda di questo rapporto nobiltà e giustizia tra mondo classico e mondo cristiano, almeno là dove quest'ultimo sia e si sappia erede consapevole del precedente, del primo. Grazie.